Giorgia Meloni non sarà presente all'inaugurazione della Fiera del Levante. La tradizione che vede la partecipazione del presidente del Consiglio di turno durante i lavori della prima giornata di fiera anche quest'anno non sarà rispettata. A darle notizia è Gaetano Frulli, presidente della nuova fiera, che ha spiegato che quest'anno, dopo lo stop del 2021 causa Covid e la concomitanza nel 2022 con le elezioni che comportò l'assenza di rappresentanti del governo, la politica torna a Bari con il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso che ha confermato la sua presenza all'inaugurazione dell'appuntamento fieristico. Temi caldi per questa edizione saranno in primis l'innovazione tecnologica e la solidarietà con uno spazio speciale riservato al terzo settore. Un rapporto, quello tra Giorgia Meloni e la Puglia, che nonostante questa sua assenza annunciata al primo giorno di fiera si dimostra fortissimo, come confermato dalla presenza del presidente del Consiglio in questi giorni, che ha scelto proprio il tacco d'Italia come rifugio per le proprie vacanze e non solo. È proprio in Puglia, a Ceglie Messapica, che la leader di Fratelli d'Italia ha ricevuto il vicepremier Matteo Salvini nella masseria dove si trova in vacanza per un incontro che, secondo le fonti di Palazzo Chigi, sarebbe stato dal carattere gioviale, una classica domenica italiana trascorsa tra amici. La versione dell'incontro tra i due vertici del centrodestra in salsa a tarallucce e vino, sebbene particolarmente calzante ai prodotti tipici offerti dalla Puglia, sarebbe una ricostruzione light di quello che molti cronisti hanno invece definito il patto della masseria, mirato a creare un'intesa tra i due leader su temi come gli extraprofitti bancari, su cui infatti si è espresso il Consiglio dei Ministri il giorno seguente all'incontro, o sul bonus sociale e soprattutto sull'emergenza sbarchi aumentati vertiginosamente durante l'estate. Anche la scelta del Governo di ospitare in Puglia il prossimo G7, offrendo alla Regione una vetrina di livello mondiale, conferma l'attenzione e la vicinanza al territorio, definito dalla stessa Presidente del Consiglio un ponte naturale tra Occidente e Oriente, terreno ideale per ospitare un confronto tra i leader delle più grandi potenze del pianeta, scosso da tensioni geopolitiche e minacciato dalla crisi climatica.